ciao sono emiliano galli dell'agenzia immobiliare re maxi dal case e oggi ti presento un appartamento anzi degli appartamenti in via scoli 19 mi trovo in zona pigneto è una palazzina che è stata completamente ristrutturata da zero è stato installato l'ascensore quindi è tutto quanto nuovo con impianti certificati e classe energetica d l'appartamento che ti sto facendo vedere in questo momento è un secondo piano con ascensore tant'è che nei vari lavori è stato installato anche l'ascensore la faccia da questa parte a ovest è un balcone abbastanza vivibile gli affacci sono aperti ci sono gli attacchi per la caldaia e per i condizionatori questo appartamento si compone che è identico a quello al primo piano è un soggiorno con angolo cottura questo arco ci accompagna in questa grandissima camera lo stile con cui è stato fatto diciamo è uno stile loft quindi con gli ambienti tutti quanti aperti eccolo qui chiaramente dopo l'acquisto si può mettere una porta lì e dividere i due ambienti comunque la camera è molto comoda il soggiorno a faccia a destra come vi dicevo lì dove si intravede il balcone la camera da letto invece espone verso via ascoli piceno quindi a questo è il bagno con lavabo un piatto doccia molto comodo e sanitari il bagno è finestrato ripeto l'appartamento anche al piano primo ha la stessa grandezza è semplicemente un piano inferiore ma la fortuna di avere anziché questo balcone dove comunque abbastanza comodo per fare entrare un tavolino quel giardino che stanno completando se ti interessa chiamami vieni a vedere gli appartamenti e ti consiglio di sbrigarti perché sono gli ultimi appartamenti disponibili iscriviti al canale Per vendere casa, puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi. Grazie per la visione! Grazie per la visione!